Presidente, con la trasformazione ad ASP, in che modo si andranno a migliorare i servizi alla persona e che cosa cambierà? L'ambito territoriale e sociale 6, che rimane, perché gli ambiti sono determinati dalla Regione Marche, si trasforma passando dalla attuale convenzione intercomunale, i comuni sono nove, da Fano a Pergola, che è un atto amministrativo semplice ma anche rigido, che prevede, regola i rapporti fra i comuni, passa a un'azienda pubblica di servizi alla persona, che è un ente autonomo, con propria personalità giuridica, è un ente non economico, cioè non gestisce direttamente i servizi ma si affida alla rete del territorio, del welfare territoriale, quindi del terzo settore, ed è un ente pubblico locale. Dunque non si trasformerà l'ambito, bensì la convenzione? Il fine qual è? Ottimizzare le risorse, intercettare anche più risorse dai vari canali, che possono essere quelli ministeriali, europei, regionali, e alla fine arrivare a mettere in campo, con un potenziamento della gestione associata, interventi il più possibile capillari appropriati e accessibili là dove il bisogno si presenta. Fratelli d'Italia sostiene che non state rispettando le leggi regionali, visto che nel piano sociosanitario il nuovo ambito sociale di competenza è quello fra l'unione dell'ambito 6 con l'ambito 7, dunque sarebbe una fuga in avanti secondo loro e avrebbe l'obiettivo di gettare le basi di un oligopolio politico da parte della sinistra. Testuali parole, che cosa risponde? No, smentisco. C'è sempre stata la normativa, ma anche tutta la pianificazione, che ha indicato o cercato di promuovere, di favorire, la coincidenza fra ambito sociale e distretto sanitario, nella logica dell'integrazione sociosanitaria. Finora non è stato fatto. Se ci sarà un domani questa rionificazione da parte della Regione Marche, dell'ambito 6 che fa capo a Fano e l'ambito 7 che fa capo a Fossombrone e insieme fanno parte dello stesso distretto sanitario, credo che sia un auspicio per tutti perché rafforza le politiche sociali sul territorio, sempre potenziando la gestione associata e trovando un riordino istituzionale del territorio. D'altra parte Mauro Ginesi, ex portavoce del Comitato Lebrecce, le chiede se è convinto che l'Asp sia una buona cosa, rinunci per i primi 5 anni a fare l'amministratore unico. Cosa ne pensa? Allora, io attualmente sono presidente dell'ambito territoriale sociale 6, indicato, nominato, insomma, dai 9 sindaci. Non posso fare l'amministratore unico dell'Asp, eventualmente vedremo poi, tra l'altro ci sono le elezioni a Fano, perché io sono presidente in quanto assessore delegato dal sindaco di Fano. L'amministratore unico, basta leggere lo statuto, lo deve fare una persona qualificata, competente, e tra le incompatibilità c'è il fatto che non debba essere un dipendente della Regione Marche. Io sono dipendente della Regione Marche perché la Regione Marche è un organo, è l'ente di controllo, quindi non c'è pericolo.